In un momento in cui la politica è in crisi, io credo che i cittadini si chiedono ma che cosa può fare un'istituzione come la Regione per aiutare le imprese agricole e contemporaneamente per aiutare l'occupazione. Allora io credo che la maggior parte dei nostri compiti siano quelli di agevolare le imprese a trovare un contesto migliore e in questo contesto che possano maturare un vantaggio competitivo rispetto alle altre. Allora c'è la crisi, c'è una difficoltà italiana, c'è una difficoltà di tutti i settori ma un dato abbiamo che la meccanica e la meccatronica vede il 30% dell'export di tutto l'export della Puglia verso questi stati. Allora invitare questi stati a ragionare su imprese che mettono insieme la meccanica e l'agricoltura, l'agroindustria significa insieme raggiungere almeno tre obiettivi. Il primo aiutare l'agricoltura ad essere competitiva, moderna, ad arrivare sui mercati internazionali forte di tecnologie e di attrezzature che servono a migliorare il prodotto e la qualità del processo. Il secondo obiettivo è aiutare la Puglia a mettere insieme lavoratori giovani ma anche più adulti che si sono formati su altre discipline ma possono dare il loro contributo all'agricoltura perché questo settore sia più efficiente. E il terzo obiettivo è quello che per noi l'internazionalizzazione ha un significato di sbocco su mercati rispetto a quello italiano che è un mercato abbastanza saturo. Se raggiungiamo questi tre obiettivi possiamo dire che l'istituzione regione dà il massimo del contributo possibile alle sue imprese. Grazie. Grazie.